La salute, un po' per rappresentare un elemento, noi abbiamo tra le tante criticità che ci vengono rappresentate dal governo regionale, che a mio avviso è un disastro, è un disastro e purtroppo le cronache giudiziarie ci stanno testimonando questo, lo è soprattutto in tema di sanità. Io sono sottosegretario di Stato della Salute, le performance sanitarie nella nostra regione sono performance sanitarie che ci vedono praticamente agli ultimissimi posti nelle classifiche italiane. La governance sanitaria con la riforma del titolo quinto della Costituzione è affidata alle regioni, oggi noi abbiamo anche qui un elemento di rottura con il passato. Se il centrodestra, seppur in una competizione elettorale di carattere proporzionale, quindi diviso tra Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Moderati, riesce a portare un voto cospicuo, noi possiamo dare un avviso di sfratto a Michele Emiliano per rappresentare anche a livello regionale una valenza straordinaria del voto, quindi c'è una valenza del voto che ha una valenza di carattere governativo per rafforzare il governo, ma può essere da presentare anche un campanello d'allarme nei confronti di un Presidente di regione incapace che purtroppo ci ha fatto andare anche nelle ultime ore all'ordine delle cronache rispetto appunto alle indagini giudiziarie, a me viene da ridere perché ve lo dico, quest'estate ero a Ceglie Messappica, per chi segue le cose della politica, quella a Gorachi si chiama La Piazza, ero lì e mi fanno una domanda, ma secondo lei perché la sanità in Puglia va male? Io dico guarda perché c'è una gestione clientelare della sanità, perché anche nei posti chiave non vengono messi medici bravi, probabilmente ne arriva eco, intuisco il fatto che i percorsi vengono agevolati molte volte rispetto agli amici e amici delle amici e poi c'è una gestione anche clientelare nell'accesso alla cura, perché se tu non sei amico di quello o di quell'altro tu se vai a richiedere un'indagine diagnostica, ti butta una babbo morto e poi non mori tu, non il babbo, perché praticamente quell'indagine non ti viene data. Dico questo, applauso del pubblico, arriva Michele Emiliano dopo di me, gli rappresentano questa cura e gli dice guardi il sottosegretario si deve di me, io mi devo di me, tu hai fatto di me. C'è una cosa pazzesca. Peraltro vi dico che quando si creò quella, perché giustamente, ma lui come fa a dire che esiste una mamma tarantina, mi mandò un video, guardi quella signora è veramente una forza straordinaria, perché? Aveva un figlio malato di tumore, e praticamente incontra Michele Emiliano che andava come il Papa, salutava tutti, e quello gli dice Presidente, io ho mia figlia che c'è il tumore e non riesce a fare questo, questo e quest'altro, come devo fare? Come è tua figlia? Non riesce a farlo, non riesce a farlo, non riesce a farlo, ma come? È impossibile, ma prenditi il mio numero, prendi il mio numero, basta che mi chiami e te lo risolverò. Quella mamma ebbe la dignità di dire, Presidente, io il suo numero non me lo prendo, perché io non devo avere perché raccomandato da lei, perché come mia figlia ci sono tante mamme che hanno il tumore e non devono raccomandarsi a lei. Allora mi hanno mandato questa cosa, guardate, la prima gestione clientela, la frappa proprio Emiliano, che dice alle persone, prenditi il mio numero, avvisati a me che ti faccio saltare la cosa, e la mamma tarantina ebbe, guardate, è una dignità straordinaria, perché rispetto a tua figlia che è malata di tumore, evidentemente ha dei problemi che io non osso neanche pensare da padre se si ha quel tipo di problemi, ha avuto la dignità di dire, guarda, io non accetto il suo numero, nella mia condizione ci sono centinaia di mamme come me, non voglio più fortissimi da lei, voglio che la sanità pulisi realmente funzioni. Concludo, noi proprio per questo dobbiamo votare Fratelli d'Italia, dobbiamo votare i nostri candidati, dobbiamo dare l'avviso di spratto a Michele Emiliano, dobbiamo rafforzare il governo Meloni, dobbiamo continuare ad essere comunità, dobbiamo continuare a vincere. Viva Tavanto, viva i nostri candidati, viva Giampaolo, viva Giovanni, viva La Guido, viva Pistuziana, viva tutti quanti noi ci siamo arrivati questa volta. Grazie.